Occhio alla notizia In studio, Marco Ferri Vediamo subito i titoli del nostro sommario Le Marche in zona arancione Da domenica per almeno due settimane Lira di Acquaroli, provvedimento eccessivo Celebrate nella Cattedrale San Paolo Apostolo a Senigallia L'esequio del Vescovo in merito di Fano Mario Cecchini L'uomo del sorriso La protesta dei ristoratori con l'iniziativa Io Apro Promossa da Umberto Carriera Poche però le adesioni, tanti ripensamenti Al via lo screening di massa in diversi comuni dell'entroterra pesarese Questa mattina siamo stati al bocciodromo di Colli al Metau A Monbaroccio i tamponi rapidi anche a studenti, insegnanti e personale scolastico Questo era il nostro sommario Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Sul canale 17 di Fano TV Da domenica dunque, come avete sentito Le Marche saranno in zona arancione Ci resteranno per almeno due settimane Lo ha annunciato il Governatore Francesco Acquaroli Che sul suo profilo Facebook ha spiegato la situazione I rilevamenti della settimana in corso sono in miglioramento Ha scritto il Presidente Ma così è stabilito nel nuovo DPCM Va bene essere prudenti Per questo anche noi avevamo deciso di rinviare l'apertura delle scuole superiori in presenza Tornare in zona arancione con un RT ormai stabilmente sotto a 1 Da un mese e mezzo mi sembra però un provvedimento eccessivo Più che una scelta precauzionale Sono amareggiato e dispiaciuto, ha detto e concluso Acquaroli E continuerò a fare di tutto affinché il Governo comprenda le nostre richieste E modifichi il DPCM Ma le norme vanno sempre rispettate anche quando non condivise E questo è l'invito che rivolgo a tutti Oggi nella Cattedrale di Senigallia Sono stati celebrati i funerali di Monsignor Mario Cecchini Vescovo emerito della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola Una persona sorridente ed accogliente Così lo ha ricordato l'Arcivesco Piero Coccia Letizia Marchionni Monsignor Mario Cecchini aveva una innata spinta ad aiutare le persone Sapeva ascoltare e confortare Lo ricorda con queste parole l'Arcivescovo Piero Coccia Durante i funerali da lui presieduti e svolti Questo pomeriggio alle 15 Nella Cattedrale di San Pietro Apostolo di Senigallia Un Vescovo sorridente ed accogliente Profondamente devoto a Maria, Madre di Gesù Cecchini amava stare tra la gente e con la gente Ordinato Vescovo il 16 marzo 1986 e divenuto emerito l'8 settembre 1998 Aveva lavorato intensamente per l'unificazione delle quattro diocesi di Fossombrone, Cagli e Pergola con quella di Fano Un uomo che in forza della fede di battezzato, in forza dell'ordinazione sacerdotale ed episcopale Ha tenuto fisso di fronte ai suoi occhi l'orizzonte della risurrezione del Signore Ed è stato questo orizzonte a condurlo, a orientarlo Lui ha confortato tante persone, le ha confortate nel cammino della fede Teso alla risurrezione del Signore Ha vissuto lui la sua vita personale Abbracciando le responsabilità che ha avuto nella Chiesa e anche nella società Con l'occhio fisso e il cuore diretto alla risurrezione del Signore Positivo al Covid-19, Cecchini si è spento all'età di 87 anni Per complicazioni dovute a diverse patologie pregresse lo scorso 13 gennaio Presso l'Opera Pia, ma sta ai Ferretti di Senigallia, dove era ricoverato da tempo Presente alla celebrazione delle esequie, oltre al Vescovo di Fano, Armando Trasarti Al Vescovo di Senigallia, Francesco Manenti E da molti sacerdoti della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli e Pergola Anche il sindaco Massimo Seri Il Vescovo Mario era stato generato alla fede dalla Chiesa di Senigallia Era stato generato al sacerdozio dalla Chiesa di Senigallia Ed è stato anche generato all'Ebiscopato da questa Chiesa Dove aveva avuto anche ruoli di rilievo e di importanza Oggi questa Chiesa, con tutto l'Ebiscopato, con il Presbiterio E con tutto il popolo di Dio lo saluta In calo nel 2020 i furti, in aumento invece le rapine in strada Questo è il bilancio presentato dalla Compagnia Carabinieri di Pesaro Filippo Pucci Calo dei reati in genere e in particolare dei furti È quanto emerge dal rapporto annuale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino Che tiene conto anche del periodo di lockdown Sul territorio l'arma è presente con tre compagnie Pesaro, Urbino e Fano, dalle quali dipendono 34 comandi stazione Nell'anno appena concluso è stato registrato un calo del 20,4% dei delitti denunciati Si tratta di oltre 5.600 reati a fronte di più di 7.100 del 2019 Costanti invece i casi di estorsione che lo scorso anno sono stati 34 Mentre sono diminuite le truffe e le frodi informatiche Inoltre è stato rilevato un aumento delle rapine 41 in totale nel 2020 a fronte delle 26 dell'anno precedente In particolare quelle avvenute in strada Passate dalle 9 alle 25 dello scorso anno Per l'azione di prevenzione L'arma dei Carabinieri ha svolto circa 21.000 servizi Con quasi 81.000 controlli Anche sul rispetto delle norme anticontagio In quest'ultimo ambito sono state controllate Oltre 55.000 persone Delle quali 1.332 sanzionate E 20 denunciate all'autorità giudiziaria 6 per ipotesi di falso 3 per inosservanza del divieto di allontanarsi Dalla propria abitazione Perché in quarantena oppositive al virus E 11 per altri reati Sono più di 16.000 invece Le attività commerciali controllate Di cui 5 sanzionate E 16 le imprese chiuse dal nucleo espittorato del lavoro Sulle strade poi sono state accertate 10 violazioni per guida sotto l'effetto di stupefacenti E 81 in stato di ebrezza alcolica Per l'azione di contrasto I Carabinieri hanno dato un nome agli autori Di oltre il 26% dei reati denunciati In totale sono stati eseguiti 194 arresti E sono state denunciate quasi 2.000 persone Infine, nel contrasto dello spaccio di traffico Di sostanze stupefacenti 60 persone sono state arrestate in flagranza di reato 10 su provvedimento dell'autorità giudiziaria E 75 deferite penalmente a piede libero Segnalati anche 159 assuntori di droga E sequestrate tutte le tipologie di stupefacenti Fra queste spiccano agli oltre 3,5 chili di cocaina Invece la polizia di Fano ha controllato alcuni giovani Nella zona del Pincio insieme alle unità cinofile A due maggiorenni che provenivano da un'altra regione Senza un valido motivo è stata elevata una sanzione di 400 euro Inoltre gli agenti del commissariato hanno identificato Un uomo che ha esibito patente e carta d'identità rumene e false Si tratta di un 48enne residente a Pesaro Già noto alle forze dell'ordine A cui era stata già sospesa e ritirata la patente di guida Inoltre la vettura sulla quale stava viaggiando Era stata fittiziamente intestata ad un'altra persona L'uomo è stato arrestato e sanzionato Mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo Questa mattina l'arresto è stato convalidato Sono nove invece i decessi legati al covid registrati nelle Marche Hanno perso la vita quattro persone residenti nella provincia pesarese Tra cui due fanesi Intanto continua a superare quota 500 il numero di contagi giornalieri nelle Marche Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 571 casi Di cui 111 nella provincia di Pesaro e Urbino Negli ospedali della regione ci sono 10 ricoveri in più rispetto a ieri Per un totale di 669 In lieve aumento i pazienti in terapia intensiva E in calo quelli in semi-intensiva Vi ricordo che subito dopo il nostro telegiornale Andrà in onda Io Apro Uno speciale approfondimento della testata giornalistica In diretta nella quale ovviamente parleremo Di questa iniziativa Iniziativa lanciata e partita da Pesaro Che sta coinvolgendo decine e decine di centinaia di ristoratori In tutta Italia E quindi i servizi che abbiamo preparato Per parlarvi di questa iniziativa Li vedrete tra poco in diretta Intanto oggi ha preso il via Lo screening di massa in diversi comuni dell'entroterra pesarese Questa mattina siamo stati al bocciodromo di Colli al Metauro Simona Zonghetti È tutto pronto al bocciodromo di Via dei Lecce a Tavernelle Sito scelto dall'Azure e dai comuni di Colli al Metauro e Monte Felcino Per ospitare anche in questi territori i tamponi di massa Ci si potrà sottoporre al test da domani fino al 20 gennaio Dalle 8 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 A queste date va aggiunta quella di giovedì 21 Ma soltanto nell'orario mattutino Non servirà la prenotazione Sarà sufficiente presentarsi con il modulo compilato Scaricabile dal sito dei due comuni E distribuito dai volontari della protezione civile E della Croce Rossa presenti fuori dalla struttura Era un momento molto atteso qui a Colli al Metauro Finalmente partiamo anche noi con questi screening di massa Organizzati dalla regione Marche e dall'Azur Sono inizialmente partiti il comune di Pesaro e il comune di Urbino Poi si è seguito Fano Ora è il nostro turno dei nostri comuni dell'entroterra Qui abbiamo messo in moto una macchina amministrativa e organizzativa Veramente importante Come si può vedere qui da questo salone Abbiamo quattro postazioni per il tampone rapido E una per il tampone molecolare Insomma ci aspettiamo una bella risposta da parte dei cittadini È una bella iniziativa Che serve a tracciare i positivi asintomatici Un'operazione molto importante Per fermare insieme con ognuno con il proprio contributo questa pandemia Nei momenti difficili serve responsabilità da parte di tutti E a tutti i livelli ha detto Giuliani Non voler conoscere la verità per una questione di comodo Non è mai una soluzione È come rimandare un problema Non affrontarlo facendo finta che non c'è Ma qui ne va della salute delle persone Serve coscienza collettiva e non è più tempo per i personalismi D'accordo con il sindaco e il coordinatore dell'USCA Fabrizio Valeri Il fatto di venire è una cosa che deve essere un'abitudine Venire allo screening, fare il tampone che non dà fastidio a nessuno E che non ha nessun effetto collaterale Quindi venire però il dire non vengo perché se sono positivo non posso più uscire Però capite bene che se sei positivo e attacchi la tua famiglia, attacchi gli anziani, attacchi la gente È pericoloso Stiamo assistendo ad un aumento importante dei contagi, dei positivi Perché durante le feste non ci siamo comportati bene Dal 25 in poi si sono riunite le famiglie È stata una bella cosa Però si sono attaccate tante di quelle malattie La positività crescono di giorno in giorno Il fatto di partecipare è un atto culturale positivo dal punto di vista sanitario Comportatevi bene Cercate di rispettare tutte le distanze L'igiene delle mani E venite a fare lo screening Sono tutte cose importanti Ma non forse per voi Ma per chi è vicino Per i vostri anziani, per i vostri parenti E invece a Monbaroccio L'amministrazione comunale è organizzato insieme all'istituto comprensivo Luigi Pirandello Uno screening per studenti, professori e personale scolastico Sono circa un centinaio i bambini dell'istituto comprensivo Luigi Pirandello di Monbaroccio Che assieme alle insegnanti e dal personale scolastico Si sono sottoposti questa mattina al tampone antigenico rapido Lo screening, partito intorno alle 10 Ha coinvolto sia i bambini della scuola primaria Che della secondaria di primo grado Che volontariamente, previa autorizzazione dei genitori Hanno potuto effettuare il test Il nostro comune obiettivo Parlo dell'istituto scolastico E dell'amministrazione comunale Quello di continuare l'attività in presenza A seguito dell'incremento di contagi Che purtroppo caratterizza in questo momento la nostra zona E anche dopo le festività natalizie Che comunque sono state in momento di incontro Con tutte le regole Però sono state in momento di incontro tra le famiglie Ci è sembrato opportuno fare questa proposta alle famiglie Che devo dire hanno ben accolto l'iniziativa Ovviamente il tampone che noi proponiamo oggi Lo screening che viene proposto oggi È uno screening effettuato su base volontaria Però ci offre la possibilità di valutare effettivamente La condizione dei nostri bambini Dei nostri alunni Abbiamo poi il contatto con il Dipartimento di Prevenzione Che ha informato laddove dovessero Malauguratamente riscontrarsi casi di positività Allora si procede normalmente Con l'avviso all'autorità sanitaria Quindi il pediatra o il medico di base E poi con l'informativa al Dipartimento di Prevenzione Comunque ecco poteva essere un problema I genitori sono stati ben contenti di accompagnarli Ci sono anche i piccoli eroi coraggiosi di sei anni Che non vogliono nessuno Quindi ecco felicissimi di venire a fare questo screening Lo screening interamente finanziato Dall'amministrazione comunale di Monbaroccio Ed organizzato in collaborazione con la scuola Si è svolto presso la palestra scolastica Nella quale sono state allestite le due postazioni Dove due operatori sanitari Un medico ed un'infermiera Hanno effettuato i tamponi ad insegnanti e bambini Ai più piccoli e più coraggiosi Che potevano essere accompagnati dai propri genitori È stata donata dalle maestre una medaglia al valore Abbiamo un tampone particolare Per una sola narice Per 5-10 secondi Il bambino è abbastanza tranquillo Come in questo caso è stato dimostrato Tutti i bambini abbiamo fatto rapidamente Perché già sono stati tutti catalogati dalla scuola Abbiamo già codificato tutto Ognuno arriva con una propria etichetta E su questa etichetta Poi andiamo avanti Poi facciamo passare un quarto d'ora, 20 minuti Lo leggiamo E l'esame è finito Lo screening è rivolto alla tutela Prima di tutto del bambino chiaramente Però anche di tutte le persone che gli stanno intorno E anche dei compagni di scuola Del personale scolastico Diciamo che siamo all'interno di una comunità Quando si parla di scuola E quindi la tutela di ognuno È rivolta poi a tutta la comunità E chiaramente come dicevi tu prima Anche alla famiglia Il comune di Cartoceto si fa portavoce Promuove una petizione popolare Per chiedere di ripristinare l'apertura Dell'ufficio postale del centro storico Infatti dopo il primo ridimensionamento subito anni fa Che ha portato le giornate di apertura da 6 a 3 Da qualche mese a causa della pandemia Si è passati ad un solo giorno La situazione è paradossale Spiega il sindaco Enrico Rossi Perché si aumenta la possibilità di assembramento Con rischi per la salute degli utenti Per questo ho chiesto Continua il sindaco A poste italiane Una modifica dell'assetto organizzativo E anche l'Ancimar che sta seguendo la vicenda La petizione può essere sottoscritta Nell'ufficio protocollo del municipio di Cartoceto E nell'ufficio servizi demografici a Lucrezia E adesso parliamo per un attimo Del concorso dei presepi Che si è concluso il 6 di gennaio Il concorso che ogni anno Vede protagonisti tanti di voi Con foto e video inviati alla nostra redazione Allora abbiamo decretato il vincitore Il vincitore è Ivo Si chiama almeno così Non ci ha lasciato detto e scritto null'altro Soltanto il suo nome Ed ha realizzato quest'opera Questo presepe E dopo un'attenta analisi Di tutto ciò che ci avete inviato La nostra giuria ha decretato appunto il vincitore Il presepe è stato realizzato all'interno di un fusto Contornato di luci natalizie Con la natività al centro E per la sua originalità Ha vinto il concorso 2020 Del nostro concorso Ok Allora adesso noi ci fermiamo Per una breve pausa pubblicitaria Le previsioni del tempo Poi ristate sul canale 17 di Fano TV Perché torneremo in diretta E la nostra redazione Tutta la nostra redazione Sarà al lavoro per seguire Questa iniziativa Dal titolo Io apro E vedremo come sta andando Nel nostro territorio Abbiamo tanti collegamenti Interviste, servizi Dunque vi aspettiamo tra pochissimo Grazie a tutti